Accusato del duplice omicidio del fratello Carlo e della sua compagna Maria Rosa Fortini, durante la detenzione avrebbe dato alle fiamme il materasso della cella nel carcere di Bergamo. Deve rispondere anche a questa accusa il gelese 44enne Maurizio Novembrini. Davanti al GUP del Tribunale Bergamasco è già stata disposta una perizia psichiatrica per valutare le sue condizioni mentali al momento del duplice omicidio. Novembrini avrebbe dato alle fiamme il materasso a maggio all'interno della sua cella, proprio mentre era detenuto a Bergamo, un gesto che gli è costato il trasferimento nel penitenziario di Pavia, una accusa che gli viene mossa dai PM della procura, ma in questo caso il difensore, l'avvocato Paolo Birolini, ha chiesto l'incidente probatorio. Lo scorso aprile sparò contro il fratello e la compagna all'interno di una sala slot a Caravaggio.